Cresce la città e cambiano le esigenze della popolazione. A San Giovanni Teatino l'amministrazione comunale chiede l'intervento dei vertici della Società Unica di Trasporti, TUA, per garantire nuove tratte in aree divenute più popolate. Implementare le corse o del 13 o addirittura estendere la corsa dell'11, stiamo vedendo quale è tecnicamente fattibile, per venire incontro alle esigenze dei cittadini. L'altra esigenza è quella della città della dello sport, ormai è una realtà, una realtà che non è più soltanto della nostra città ma dell'intera area metropolitana e quindi ha bisogno di maggiori servizi. In questo per quanto riguarda la città della dello sport è già tutto pronto, anche sotto il punto di vista degli aspetti formali e anche delle strutture che abbiamo realizzato, stiamo attendendo l'ultima azione della ristrutturazione interna di TUA per poter portare anche il 6 alla città della dello sport. Nell'incontro avvenuto questa mattina la Società TUA ha acquisito le prime informazioni utili per analizzare la richiesta e fare tutte le dovute considerazioni sul caso, ricordando che la società si trova attualmente in una situazione di riorganizzazione interna. Il Comune di San Giovanni Tattino ci ha chiesto un intervento particolare su alcune tratte, stiamo valutando insieme all'amministrazione, innanzitutto i numeri perché ovviamente poi dobbiamo fare i conti con i viaggiatori potenziali interessati e poi stiamo verificando anche sul piano tecnico la possibilità di far arrivare i nostri autobus suburbani e urbani in aree attualmente non servite e per questo abbiamo necessità anche dei pareri tecnici degli enti preposti a rilasciare nulla osto per la sicurezza degli esercizi.